Vuoi sapere qual è il modo più facile e veloce per acquistare vini pregiati in soli 5 minuti? Scarica l'app dall'app store o da Google Play! Potrai iniziare da subito a comprare, vendere e imparare tutto quello che c'è da sapere sui vini da collezione! VinDom è quello che fa per te la scelta intelligente per comprare vini pregiati direttamente dal tuo smartphone!